Ciao ragazze e benvenute in un nuovissimo video! Il video di oggi sarà un video carellata outfit costruiti con i 30 pezzi del capsule wardrobe del video scorso Mi avete scritto in tantissime, ho avuto un'inondazione di messaggi tra youtube e instagram che non riuscivo neanche a starvi dietro Comunque mi avete resa felicissima perché il video scorso vi è piaciuto tantissimo Quindi io sono super felice di questa cosa, vi invito ad iscrivervi al canale in caso non siete iscritte Così insomma non perderete i miei prossimi video e ricordatevi sempre di attivare la campanella Allora ragazze appunto il video di oggi sarà un video carellata di tutti gli outfit che ho composto con la mia capsule wardrobe Vi dico una cosa, mi sono resa conto che nella mia capsule wardrobe mancano due cose essenzialmente Anzi forse ne mancano tre se vogliamo proprio essere puntigliosi Allora secondo me manca una cintura che io in questo video ho aggiunto Poi mancano un paio di stivali neri che in qualche outfit ho aggiunto Poi mi sono trattenuta perché volevo essere il più... non mi viene la parola Volevo insomma fare proprio con tutti i pezzi che vi avevo già mostrato del capsule wardrobe Comunque un paio di stivali neri e poi secondo me ci sta bene aggiungerci una borsa nera Che è vero che la borsa color neutro sta bene con tutto però è anche vero che la borsa nera è un must Di cui non si può fare a meno secondo me Quindi queste sono le tre cose che aggiungerei come vedete Cioè quando si fa la capsule wardrobe Poi appunto si possono aggiungere delle cose Se ci si accorge che sono anche quelle che abbiamo oggi proprio con le parole Non ci siamo proprio, non riesco a parlare Sarà perché sono stanchissima ma apprezzate il video Mi sono già persa nel discorso Comunque avete capito sostanzialmente Se non avete capito lasciatevi un commento qui sotto che cercherò di farvi capire cosa intendevo Comunque niente il video spero non sia lunghissimo Gli outfit sono tanti ma le combinazioni ragazze non sono tutte Con questo guardaroba capsula potete fare un miliardo di combinazioni Cioè io mi sono resa conto facendo gli outfit per il video Tenete conto che io ho iniziato a registrare alle 11 del mattino Adesso sono le 2 del pomeriggio e io devo ancora finire Quindi immaginatevi ci sono volute 3 ore per creare gli outfit Ragazzi vi lascio al video altrimenti diventa lunghissimo Io vi mando un grandissimo abbraccio Non dimenticatevi mai di lasciare un like Quando avete finito di vedere il video Perché per me è molto importante per capire anche Se apprezzate questo tipo di video Vi mando un grandissimo bacio E ci vediamo la prossima volta Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.